Come va concimata l'Oxalis triangularis? È una pianta che va concimata, specialmente in primavera e l'estate. Il mio consiglio è utilizzare un concime per piante fiorite. Usiamo questo qua della linfa, un tappino ogni due litri d'acqua. Andiamo a concimare una volta ogni due settimane. Oppure c'è anche questo qua solubile in polvere, sempre da diluire nell'acqua. Oppure se usiamo la canna dell'acqua e usiamo l'annaffiatoio, va benissimo anche questo qua, granulare a lenta cessione, ne mettiamo magari un pugnetto, un cucchiaio attorno al colletto della pianta. Quando andiamo a irrigare le palline si sciolgono lentamente, per un mese, un mese e mezzo siamo coperti a concimazione.